Il riscatto della cultura, c'è voglia di mostre e visite guidate. A Vicenza arrivano le prenotazioni attese. Musei e teatri chiusi fino a poche settimane fa con il rientro in fascia gialla tornano a rianimarsi e Vicenza ha puntato su una mostra evento dedicata a Romano Lotto. Abbiamo tantissime prenotazioni, soprattutto nel fine settimana per i musei, ma anche laddove stiamo iniziando ad aprire degli spettacoli, penso ai mattinè, al Chiericati e comunque ad esempio alla mostra di Romano Lotto. Devo dire che le persone hanno davvero molta voglia di ritornare. Per il momento riempirsi è l'agenda dei fine settimana, per i restanti giorni si attendono all'arrivo dei turisti. Certo non aiutano le ancora tante regole e limitazioni che rendono più complicato rendere godibile le visite a mostre e musei. A ripartire è anche il teatro comunale intanto con la danza, ma la città si prepara anche agli eventi estivi all'aperto. In prospettiva nei prossimi mesi, come abbiamo fatto l'anno scorso, seguiremo delle prescrizioni rigorose che vengono concertate con Ursa e con la Questura e riusciremo secondo me a garantire il ritorno anche degli eventi nelle piazze piuttosto che nei parchi.